Non è necessario, visto che c'è sempre una manifestazione più di qualsiasi donna in qualsiasi paese nel mondo dalla legge islamica poi se ci sono dei paesi musulmani per la tradizione, per la loro, diciamo, in Italia, in Italia ci vuol dire che non vanno a scuola di voi rispondere a tutti noi in Italia, e ti amiamo tutti in Italia, e ti mando per cento se non vieni, non vieni, non vieni